Con l'inaugurazione della sua sede elettorale in via Piave, che per le prossime settimane diventa a pieno titolo il suo quartier generale, Elvira Serra ha deciso di dedicare i prossimi giorni alla visita ai diversi quartieri della città, in cui incontrare i cittadini ed affrontare con loro le diverse emergenze sociali che toccano la comunità cittadina. Certo, aprire una sede per questa campagna elettorale mi dà veramente una grande gioia, perché questa diventerà la nostra casa per i prossimi giorni. I prossimi giorni noi porteremo in giro le nostre proposte, diremo chi siamo, che cosa vogliamo fare, perché la maggior parte di voi, di noi, non ci conoscono e quindi dovranno sapere quanta capacità c'è, quante progettualità c'è? Perché noi siamo i gruppi più nuovi che si presentano in questa campagna elettorale e siamo nuovi perché? Perché certamente c'è una compagine ampia di partecipanti, di futuri consiglieri comunali.